ehi la buon pomeriggio allora secondo contenuto di giornata pagelle gran premio di monte carlo allora cominciamo subito di botto max verstappen 10 e lode tendente all'undici ho già anticipato ieri rivoto praticamente se non è stata la più bella gara in carriera di max verstappen poco ci manca praticamente perfetto non ha sbagliato nulla col position e non era cominciato bene questo weekend con quella famosa frase che è il famoso team radio che ha fatto ascoltare vanzini in telecronica niente sarà la macchina sarà quello che volete però uno che sa governare così bene ausi con l'ausilio della vettura indubbiamente le gomme la mescola diciamo che sulla carta meno affidabile nel grebero di monte carlo la fa durare oltre 50 giri quando le previsioni di pirelli portavano poco più di 50 giri la la mescola bianca lui fa durare oltre 50 giri quella gialla che cazzo li vuoi dire poi benissimo anche in condizioni di bagnato che non gli si può dire nulla questo qua 10 e lode assolutamente fernando alonso voto otto e mezzo gran gara peccato per quel pit stop non penso non penso che avesse riuscito non penso avrebbe riuscito a un pezzo sarebbe riuscito a impensierire verstappen però quel doppio pit stop il beneficio del dubbio ce lo toglie ok ma col verstappen di ieri onestamente c'è poco da fare o con voto otto e mezzo anche lui splendido weekend non solo ottime qualifiche ottima gara non soffre minimamente chi gli arriva dietro anzi e chi gli arriva dietro che lo soffre bravissimo luis emilton voto 7 una gara senza infamia senza lode ma chi arriva sto quarto posto che ci fa notare come se se diciamo i giorni migliori sono passati resta sempre un gran pilota rasse rasse sono sincero onestamente non ho ben capito perché perché ha perso posizioni perché era quasi alle soglie del podio mi sa che ha messo la gomma full non lo so non ho ben capito comunque ci do un 7 perché comunque ha fatto una buona gara leclerc leclerc 6 di una sufficienza aveva anche fatto una buona qualifica buone libere poi in gara raga in gara gli do la sufficienza perché non ha la macchina tanto per cambiare sainz 6 meno stesso discorso stesso discorso ma lui ci mette del suo anche con degli errori quindi il meno dovuto a quegli errori la gasli 6 e mezzo nella buona giornata dell'alpine lui fa fa settimo fa una buona gara li va davanti una ferrari anche lui quindi che dire bene per lui lando norris 6 più punti per la maclaren importanti a monte carlo lando norris è un pilota primo di eccessi negativi e positivi e quando uno primo di eccessi qualche punti e qualche puntarello pur disponendo di una macchina che onestamente pare essere passati in second ordine rispetto all'indicar peccato per il marchio mclaren però bene giornata mclaren che completata da lei fu dal punto di conquistare una piastri 6 e mezzo un buon weekend del resto che questo ragazzo fosse in gamba lo si sapeva valteri bottas 5 e mezzo nulla da segnalare se non l'undicesimo posto nick devris devris voglio dare 6 perché a lungo ha battagliato ai margini della zona punti e questo un altro ragazzo che ha quotato da rivedere magari con una macchina migliore wanyu ju 5 praticamente sempre nelle retrovie 5 ci do anche albon da lui mi aspetto sempre qualcosa in più perché ci ha abituato a dare qualcosa in più con la vettura che ha sunoda 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 voglio dare un bel 6 anzi 6 e mezzo perché prima dei problemi che ha avuto con la macchina era pienamente in zona punti e io sono sempre molto severo con questo ragazzo invece stavolta mi ha convinto ha fatto una buona gara sergio perez foto 5 un disastro questo suo weekend che praticamente sancisce il titolo mondiale di verstappen guardate come siamo messi l'avversario più credibile ceco perez che ultimamente mi è scaduto un po come pilota 5 troppi errori poi monte carlo non so quanti pit stop abbia fatto niente niente negativa urkenberg 5 anche per lui praticamente ha fatto l'autoscontro per tutta la gara e dire 5 a sergeant pochissima roba pochissima roba 5 a gamma di un seno anonimato tutto tale poi anche uscito e 4 e mezzo lan stroll nel giorno in cui il tuo compagno di squadra ti fa quel popo di gara tu resti impelagato nelle retrovie una qualifica da incubo e già un paio di gare che stroll francamente fa prestazioni negative non fosse figlio non fosse figlio di che figlio non penso sarebbe in formula 1 anche se a differenza di altri carnea di difficilmente lo vedi di fare disastri c'è meglio non far niente che far male a conti fatti questo è l'an stroll comunque altri voti ferrari 5 deciso passo indietro cioè ora aspettiamo queste fantomatici questi fantomatici a giornamenti che sarebbero dovuti arrivare a imola ma arriveranno a barcellona vediamo vediamo perché raga cioè basta il rettilineo principale di barcellona per farvi capire che gara sarà doppietta red bull cioè sono pronto si accettano scommesse ma in ferrari mi spiace sembra essere tornati al 2021 e non è accettabile perché era anche cominciata bene l'anno scorso quest'anno forse si è pensato più a alle persone che la vettura si è è una nave che fatica ad entrare in porto e non va bene non va non va per niente bene poi vedo dare un 5 e mezzo un 5 e mezzo e mi spiace dare questo voto alla telecronaca di sky questo continuare a sperare ora nella safety car ora nella pioggia ragazzi siamo seri siamo seri ci sono state gare la pioggia è arrivata e se è possibile abbiamo anche peggiorato le cose però non era facile bisogna anche dirlo la safety car è uscita in altre gare ma quando uscita l'abbiamo sfruttata male ma soprattutto possiamo stare veramente alle speranze di errori altrui sì è vero in passato lo siamo stati ai temi i primi anni di schumacher quando c'erano vetture più forti della ferrari e spesso si approfittava delle noie meccanico degli errori degli hill dei jacques villeneuve degli acchinen dei cultard e ma porca puttana lì magari ci si arrivava a giocare il mondiale all'ultima gara qui non ti giochi manco il podio in una singola gara qua e non va bene perché qua c'erano tutte le premesse per portare almeno una macchina al podio in questo gran premio non possiamo ogni volta sperare e ora nella safety car e ora nell'undercut e ora nell'overcat ora in questo in quest'altro signori la macchina non c'è la macchina non c'è e qualche grave che non abbiamo piloti caratterialmente in grado di trascinare la squadra lo stesso leclerc fino all'anno scorso sembrava gli fosse tutto dovuto per carità talentuosissimo bravissimo ma gli manca quel quid in più si vede che gli manca ora al suo mentore massor ora le scuse sono finite d'accordo la macchina ma vedete io magari sto dicendo una gran cazzata magari io non sono dietro le quinte però ragazzi qui se i piloti non danno una mano se uno dei piloti non non si mettono loro a trascinare la squadra una squadra che al momento non c'è non c'è magari l'anno prossimo bassor la costruisce ci vuole pazienza ma se i piloti non io lo dissi quando fu varata questa coppia qua io lo dissi stiamo di fronte a un bivio signori questi o sono i nuovi villeneuve schecter o sono i nuovi alessi e berger al momento sono i nuovi alessi e berger tante parole tanto impegno tanta passione ma risultati zero risultati zero o poco poco meno di zero o poco più di zero non lo so speriamo in barcellona e quindi è inutile tornando alla telecronica inutile tornare cioè sperare ora nella pioggia ora nella sella è ma chiamato guidometres e la pioggia 20 20 miglia piove no no non è così non è così può essere così quando sei in condizione di inferiorità ma non così ma non così cioè siamo la quarta forza del campionato ragazzi cioè qua siamo di peggio che nel 2021 nel 2021 era terza dopo mercedes e red bull ma mercedes e red bull erano molto più avanti di te e avevi una mcclaren che comunque faceva bene mercedes e red bull erano molto più avanti di te ora non mi volete mica dire che l'alpine così superiore cioè l'alpine che è la laston martin è così superiore alla ferrari perché non ci posso credere non ci posso credere hanno un grandissimo pilota che è alonso ma anche noi noi abbiamo le clerca e science che comunque meglio di stroll molto meglio di stroll ma signori siamo siamo dietro in classifica costruttori non va bene quindi non mi venite a dire che ogni volta bisogna sperare nella pioggia nella safety car nella virtual e no non è nei cinque punti nei cinque due secondi di penalità ecco chiedo scusa ora ricordo tolgo da sei e mezzo metto sei a russell anzi da sette metto sei e mezzo a russell perché quell'errore la poteva effettivamente essere pericoloso non possiamo sperare nella penalità di russell ora perché siamo tornati al 2021 dove la ferrari in passo gara non si avvicina a chi la precede manco per sbaglio e quando ci si avvicina non riesce manco di impensierirla vi di science con o con d'accordo era monte carlo benissimo benissimo era monte carlo ed è difficilissimo oggettivamente passare però ragazzi non è che nelle altre gare si vedono cose molte molto migliori e quindi io vorrei anche d'accordo il tifo però dai e sperare ora nella pioggia e c'è la montagna che protegge e guido me da chiamato questo no anche no anche basta speriamo in barcellona anche se onestamente con l'aria che tira lì barcellona poi non so dove altro sicuro mi sa in canada non ho ben presente il calendario adesso signori l'unica cosa che ci tocca sperare magari per non vedere la solita red bull vincere e nelle alte temperature ma ieri questi che un po li hanno messi in crisi l'anno scorso ma boh non lo so che cazzo dire ragazzi iscrivetevi al canale